I fattori ESG, Environmental, Social e Governance, entrano nel bilancio e nelle strategie delle aziende. KPMG e NED Community, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, hanno condotto una ricerca su come le imprese di grandi dimensioni, che sono enti di interesse pubblico, dal 2018 abbiano dotato l'obbligo previsto dal Decreto Legislativo 254 del 2016, che recepiva una direttiva europea, di produrre un'informativa non finanziaria sui temi ambientali, sociali, attenenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione. I risultati sono stati presentati a Milano nel convegno Strategic Risk, Governance e Sostenibilità. Pier Mario Barzaghi, di KPMG. Le dichiarazioni consolidate e presentate sono state circa 200-205 per la precisione in questo momento. Di queste 150 società quotate, circa 50 sono le società che invece sono enti di interesse pubblico rilevanti, non quotate, ma che per altri motivi, per la normativa, hanno dovuto rispondere in termini di compliance. Tre società a titolo volontario, già questa è una notizia però, perché le tre società a titolo volontario in sé si sottopongono anche alle verifiche dei regulatory, che non sono banali. La dichiarazione rende le scelte di imprese più trasparenti, come spiega Paola Svizar, presidente di Ned Community. I risultati nel complesso sono abbastanza incoraggianti, nel senso che dimostrano che le società hanno non solo preso consapevolezza dell'impatto che la loro attività genera sul fronte ambientale, sul fronte sociale, più in generale sulla collettività e sul territorio, ma anche che stanno iniziando a gestire questo impatto in modo attivo, proprio in una logica di gestione strategica dei rischi connessi con queste nuove tendenze, con questi nuovi scenari, che in buona parte sono scenari che vediamo già oggi in modo molto concreto. La finanza ha un ruolo importante perché contribuisce a far crescere le imprese sociali con strumenti innovativi come Social Impact Bond e Development Bond. Il presidente del Consiglio di Gestione di UbiBanca, Letizia Moratti. Occorre una sorta di chiamata collettiva alla responsabilità per raggiungere dei risultati che derivano anche da un cambiamento del modello socio-economico al quale siamo finora stati abituati. Ubi sta partecipando in maniera molto concreta a questa nuova finanza attraverso le emissioni di Social Bond che sono obbligazioni che vengono sottoscritte da cittadini e investitori e che vengono poi utilizzate per sostenere progetti sociali. Siamo stati la prima banca a emettere queste obbligazioni sociali, siamo orgogliosi di contribuire anche così appunto alla sostenibilità nei diversi settori. Sul tema c'è un'attenzione crescente di opinioni pubbliche e stakeholder e questo si riflette sulle strategie future. Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. I promotori finanziari e non soltanto anche i dipendenti di banca saranno chiamati ad avere un dialogo con l'investitore, con la persona, con le famiglie che vogliono fare un investimento, specificamente sui criteri di investimento socialmente responsabile. Quindi capire se c'è una sensibilità, una volontà di indirizzarsi verso un investimento socialmente responsabile.